E' in vigore il piano della mobilità messo a punto dal Campidoglio in occasione delle festività natalizie. Sino all'8 gennaio saranno in strada le due nuove circolari gratuite Free 1 e Free 2, che partendo dai parcheggi convenzionati di Piazzale dei Partigiani e della Stazione Termini, consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi, quindi via del Corso. Le due linee sono operative tutti i giorni dalle 9 alle 21. Sempre sino all'8 gennaio sarà gratuita poi la linea 100, che collega Porta Pinciana con Via Veneto e Piazza Cavour, mentre la linea 119 sarà attiva anche nei giorni festivi. Esteso l'orario delle zone a traffico limitato di Centro Storico e Tridente, fino all'8 gennaio saranno attive tutti i giorni dalle 6.30 alle 20. L'unica eccezione sarà il 25 dicembre. Grazie a tutti.